Si sta assottigliando la truppa di allenatori abruzzesi nel campionato di Serie B. Il Valzer delle panchine è in corso, ma un primo trend è possibile delinearlo. Lo scorso anno in aste di partenza vi erano Roberto D'Aversa a Parma, Fabio Grosso a Bari, Andrea Camplone a Cesena, Vincenzo Vivarini a Dempoli. La stagione si è interrotta anzitempo per Camplone, sollevato dall'incarico a Cesena già a fine settembre dopo sette giornate. Per Vivarini l'esperienza in Toscana si è conclusa a dicembre, a due giornate dalla fine del giro negli andata. Stagione importante con finale da favola per Roberto D'Aversa, che ha centrato una promozione diretta all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Con il Parma, stagione intera e logorante per il debuttante Fabio Grosso, la cui cavalcata verso la Serie A, si è interrotta al primo turno dei play-off, complici anche i problemi di natura societaria del Bari. Al bilancio di fine anno degli allenatori abruzzesi va aggiunta la parentesi a Pescara delle fan di Upai Massimo Epifani, che ha avuto l'onere e l'onore di avvicendare Zeman. Esperienza durata solo un mese, quello di marzo, e cinque partite con un punto, prima di un'altra virata verso Beppi Pillon. Ora D'Aversa, nella massima serie, può raggiungere i suoi conterranei Marco Giampaolo, confermato sulla panchina della Sampdoria. Nei mesi scorsi si parlava di lui come di erede di Sarri a Napoli. E' Eusebio Di Francesco, che nelle ultime ore ha prolungato fino al 2020 l'accordo con la Roma, dopo aver portato i giallorossi in semifinale di Champions. Chi è pronto a rituffarsi in una nuova panchina in cadetteria è proprio Fabio Grosso. L'allenatore pescarese ha appena risolto il contratto che lo legava al Bari fino a giugno 2019, ed ora potrà sedersi sulla panchina dell'appena retrocesso Verona, che si è appena assicurato anche l'attaccante Sissè, anche lui proveniente dal Bari. Al momento restano fermi in attesa di proposte ufficiali Camplone e Vivarini, e in attesa di sviluppi Massimo Oddo, reduce dalla poco fortunata esperienza a Udine. E' stato accostato allo Spezia, ma il neo DS Angelozzi sta accelerando per un ex tecnico biancazzurro come Pasquale Marino. Oddo resta in corsa per la panchina del Foggia, lasciata libera da un altro ex biancazzurro come Giovanni Stroppa, diretto verso Crotone, ma per la panchina dei Satanelli e testa a testa con Ivan Iuric.